Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILIP. Il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, due chilometri di coda in direzione Firenze tra Impoli Est e Ginestra Fiorentina, un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. In direzione Firenze ci sono poi code per lavori tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est, chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Valdichiana e Chiusi. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!